E' già in pieno svolgimento il Vicenza Pride, la manifestazione inno della diversità e della parità dei diritti del mondo gay e lesbo. Tanti, tantissimi eventi legati alla musica, alle arti visivi e al teatro sono in corso. Tutto il fittissimo programma è consultabile all'interno del sito vicenzapride.it, ma l'evento clou sarà inevitabilmente la parata del 15 giugno. Un corteo si stima di 4.000 persone che, con partenza da Viale Roma, si allungherà attraverso Piazzale Giusti, Corso Fogazzaro, Corso Palladio, Piazza Erbe, Ponte Fure e terminare in Campo Marzio. Molti eventi, molti partecipanti e qualche polemica scatenata sui siti di informazione tra favorevoli e contrari al Pride. Insomma, un copione classico per questo tipo di manifestazione che contrappone due mondi, appunto diversi, di intendere e vedere la relazione tra orientamenti sessuali e parità di diritti.